In questi ultimi tempi così difficili, molte cose sono cambiate. Oggi ci siamo adattati e abbiamo completamente trasformato le nostre abitudini. E mai come oggi dobbiamo essere riconoscenti alle imprese dell'industria della plastica e della gomma, ai loro lavoratori e alle loro famiglie, per aver reinventato e adattato i loro processi industriali, per aver prodotto camici, componenti di respiratori, materiale chirurgico ospedaliero, soprattutto per gli eroi in prima linea, per i guanti e le mascherine che indossiamo ogni giorno, per aver garantito l'approvvigionamento e la sicurezza degli imballaggi per il nostro cibo e per non aver mai smesso di riciclare tutti i rifiuti che abbiamo prodotto. Mai come oggi dobbiamo essere tutti più consapevoli del ruolo fondamentale della plastica e della gomma. È ora che abbiamo riscoperto cosa significa rimanere davvero uniti e dopo aver superato le difficoltà grazie alla tecnologia, è tempo di ripartire, per stabilire insieme nuove priorità, proteggendoci l'uno con l'altro, separando e riciclando i rifiuti con il massimo impegno, per prenderci cura del nostro pianeta e costruire un domani più sostenibile. Il futuro della plastica e della gomma è made in Italy.